Parliamo di due disegni di legge del Movimento 5 Stelle su cui il vostro partito movimento si è speso per un anno, nell'ultimo anno, che sono la riduzione del numero di alunni per classe e il tempo pieno al sud. Avete intenzione di accelerare su questi due punti anche perché sono molto sentiti, molto richiesti dal personale della scuola? Assolutamente sì, l'accelerazione dipende molto dai tempi parlamentari. Io sono molto rispettoso del percorso parlamentare e voglio evitare di accentrare sull'esecutivo l'azione legislativa. Quando esiste un percorso parlamentare avviato va rispettato perché è lì che si fanno le operazioni di riforma più importanti, trasversali e anche più democratiche. Quindi il percorso sulle classi pollaio e sul tempo pieno al sud è già cominciato da mesi. Sono ambe due delle proposte che io ho sostenuto perché non possiamo permetterci di andare avanti con classi con troppi ragazzi. Se poi consideriamo che in alcune di queste classi rischiamo pure di avere il problema del sostegno che si incrocia con i numeri, diventa davvero esplosiva. Cioè scuole con classi troppo affollate dove magari esiste anche una persona con delle disabilità a fronte magari di un sostegno che manca, un sostegno non formato. Quindi diventa anche un problema enorme per la comunità scolastica in senso generale. Quindi noi dobbiamo assolutamente abbassare i numeri e dobbiamo fare in modo che il tempo pieno, che io ritengo essere un servizio di civiltà, sia fruibile in tutto il territorio nazionale, sia accessibile a tutti. Anche in questo caso significa risorse, significa poter avere più classi, più docenti, significa avere una maggiore offerta formativa presso le scuole. Quindi questo richiede anche di finanziamenti, non è possibile farlo a costo zero. È arrivato il momento di dire chiaramente, puntare ai piedi e dire sulla scuola noi non possiamo fare economia. Anche perché nel caso del tempo pieno si tratta anche di investire su strutture, su menze scolastiche che al momento, soprattutto al sud, sono mancanti. Assolutamente, assolutamente. Significa investire sulla scuola. Io lo dico anche chiaramente, quei due miliardi che io sto lavorando per ottenere saranno sufficienti per iniziare questo tipo di percorso. Poi ci sarà bisogno di un investimento ancora maggiore, però penso che oggi bisogna dare un forte segnale di discontinuità e questo è un inizio. L'obiettivo è proprio quello, creare delle scuole sicure, accoglienti, confortevoli e sostenibili. Quindi un servizio omogeneo a livello nazionale dove chiunque possa dire ho bisogno del tempo pieno, voglio fare il tempo pieno, so che mio figlio è in condizioni di operare in una comunità che funzioni, in una struttura sicura, non si farà male, avrà del cibo salutare e così via. Noi possiamo farlo, le risorse ci sono in Italia, bisogna avere il coraggio di investire. Io mi sto abbattendo per questo.